GF VIP, Luca Onestini, in lacrime, a Ivana Mrazova, di averti dato tutto, invece non era abbastanza. All'interno della casa del GF VIP Luca Onestini e Ivana Mrazova stanno facendo sognare i fan del programma, tra di loro ci sarà un ritorno di fiamma, secondo i telespettatori, che hanno creato su Twitter l'hashtag Luvana. I due sono ancora innamorati e magari ritorneranno insieme, dopo però, aver chiarito alcuni aspetti della loro relazione. Luca e Ivana si sono conosciuti nella casa del grande fratello VIP e la loro storia d'amore è durata tre anni. Luca Onestini e Ivana Mrazova in questi giorni si stanno confrontando, stanno parlando di tutte le cose che non hanno funzionato all'interno del loro rapporto. I due si sono lasciati dopo la morte del papà della modella. Ivana in puntata aveva spiegato, non mi è stato accanto come avrei voluto. Io però, viaggiavo tanto e ogni volta che tornavo facevamo sempre fatica a riavvicinarci. Fino a che la situazione è diventata invivibile. La nostra storia comunque, non è finita per mancanza di amore o per terze persone ma per avvenimenti più grandi di noi. Nelle scorse ore, Luca e Ivana hanno avuto un altro confronto e di nuovo sono scoppiati a piangere. Il concorrente ha detto all'ex fidanzata, pensavo di averti dato tutto ma evidentemente non è stato così ed è questa la cosa che più mi ferisce. Luca Onestini e Ivana Mrazova hanno più volte dichiarato che per entrambi la loro è stata la storia più importante della loro vita. Proprio per questo non vogliono sbilanciarsi in merito a ciò che potrebbe accadere in futuro. Anche se tutti sperano possano ritornare insieme. Grazie. 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 Grazie.